Giletti è tornato in Rai per celebrare i 70 anni della televisione con un programma evento, andato in onda in prima serata su Rai 1. Prima della messa in onda dello show, Giletti è stato ospite di Mara Venier nel suo notissimo programma domenicale. In quest'intensa intervista, ha dichiarato, si dice molto spesso che Giletti ha lasciato la Rai, invece sono stato messo educatamente nelle condizioni di scegliere un'altra strada, quindi tornare è una parola giusta. Molti mi hanno detto adesso che torni in Rai e ti prendi delle rivincite, ma la mia non è una rivincita. Il suo programma sarà un omaggio alla storia della televisione, includendo elementi di varie epoche, ha infatti detto, sarà un programma old style con le sigle Rai storiche, anche quelle di Mediaset, perché sono i 70 anni della televisione. Poi, scherzando la Veniera ha rimproverato il giornalista di non averla invitata nella trasmissione, nonostante anche lei abbia scritto un gran pezzo di storia della tv nostrana. Grazie. Grazie.